Altra giornata di grandi emozioni all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, che non si fa mancare certo la bellezza tutta siciliana. Oltre che la passione per il galoppo, si coniuga la bellezza, quello dei primi casting di Miss Italia, che approdono all'impianto di Contrada Maeggio Spinagallo, così come è successo in un connubio da incanto tra gare ipiche e bellezza appunto già sabato 9 maggio. Mentre Cross Mountain in maniera disarmante sfugge gli avversari e vince il premio Conte di Oiano, dagli spalti e dagli locali della struttura polifunzionale, si eleva lo sguardo delle bellezze siciliane. Presenti appunto per fare un casting preselettivo, al vaglio della giuria capitanata dal responsabile Sicilia Ovest salvo consiglio. L'ippodromo del Mediterraneo oggi è sede della bellezza siciliana perché a terzo piano ospita quello che è i primi passi della selezione che porteranno poi a scegliere le nostre rappresentanti siciliani al concorso di Miss Italia. Accanto a me Antonello Consiglio fa parte dello staff e lui la voce di tutte le selezioni siracusane e non perché vi occupate della maggior parte della Sicilia, Sicilia Ovest. Quindi come nasce e a che punto siamo? Ciao a tutti, allora sì, Sicilia Ovest, Miss Italia Sicilia Ovest, si occupa delle province di Palermo, Trapani, Siracusa e Ragusa e stiamo iniziando l'edizione 2015. Il concorso di Miss Italia, tu benissimo sai, la Sicilia va benissimo, veniamo da tre vittorie consecutive, l'ultima Clarissa Marchese e speriamo di poter fare il poker quest'anno perché già abbiamo iniziato, questo è il secondo casting, lo stiamo facendo proprio qui come hai detto al terzo piano e ci sono tante belle ragazze anche quest'anno, quindi chissà, potremmo provarci. Abbiamo fatto anche un casting a Palermo circa due settimane fa, si sono presentati in 120, quindi le iscrizioni sono tantissime, il lavoro che stiamo facendo di casting è molto importante ovviamente perché vogliamo conoscerle le ragazze, Patrizia Mirilani ci tiene, a questo il concorso di Miss Italia, tu sai, non è solamente la bellezza, ci vuole qualcosa in più, una marcia in più che la ragazza deve avere per poter avere un futuro anche nel mondo della televisione. Ecco, e i canoni della bellezza siciliana allora quali sono? I canoni intanto sono bisogna sapere cosa si va a fare, si fa un concorso non solamente per farsi la passerella ma perché è un'opportunità lavorativa, Miss Italia dà anche e soprattutto questo, quindi bisogna prepararsi, bisogna sapere che il mezzo che c'è davanti, come adesso hanno loro, c'hanno questa camera, è importantissima per il loro futuro, quindi loro si preparano anche durante i casting perché cerchiamo di dare qualche piccolo consiglio a loro perché possa essere veramente un'occasione per poter andare da qui, partire dalla Sicilia e andare verso orizzonti ancora più grandi. Una bella struttura come questa che comunque valorizza un bellissimo sport è quello che è l'Ipica, accoglie la proposta di organizzare tutto un evento legato alla bellezza, è possibile? Sì, ci stiamo parlando, in questi minuti stiamo parlando, è un'opportunità che a noi ci fa davvero piacere e speriamo quindi che possa andare tutto in porte e potremmo avere proprio una vera selezione ufficiale del concorso qui con la passerella delle nostre aspiranti Miss e sicuramente ci sarà un grande pubblico. Ne conosciamo due, si chiamano? Giovanna Jovino e Alice Gulotto. E vengono da? Da Polizia Generosa. Cioè? Provincia di Palermo. Da Palermo. Bene, quindi tanta strada perché? Perché questo è il sogno che ho fin da quando ero piccola e poi perché secondo me è un buon trampolino di lancio per entrare a far parte del mondo della moda, della televisione. Beh, guardavo Miss Italia da piccola e poi mi attira tanto il mondo della moda e quindi spererei di avere un lancio da questo concorso. Bene, le iscrizioni sono gratuite perché Miss Italia naturalmente è gratuito, naturalmente quello che ci vuole è tanta voglia insomma di rappresentare la nostra bella Sicilia e poi che la bellezza ci aiuti. Sì, e allora io ricordo ancora, le iscrizioni si possono fare da adesso fino ad agosto, a metà agosto, quindi iscrivetevi sul sito ufficiale di Miss Italia www.missitalia.it Miss in tribuna dunque, anche per apprezzare le gare ipiche.